E' vero che con la vittoria della Lega e la disfatta del Movimento 5 Stelle ha vinto anche il PD? E' vero che, come ha detto Salvini, la fusione tra Fiat o FCA e Renault è una gran buona notizia per l'Italia? E che fine hanno fatto le grandi onde di cui ci hanno parlato i giornaloni nell'ultimo anno? L'onda nera che minacciava di stritolare l'Italia con la rinascita del Duce e dall'altra parte l'onda arancione delle mitiche madamine avamposti di una massa sterminata di popolazione ansiosa di vedere, anzi di salire direttamente sul TAV Torino-Lione, balle spaziali.